Buongiorno, perché hai deciso di entrare in questo progetto politico? Ho deciso di entrare in questo progetto politico perché essenzialmente nulla si fa se qualcuno non ti dà la possibilità effettivamente di metterti in mano, quindi l'attivismo è sacrosanto, è importantissimo, ma visto e considerato che i giovani non sono mai coinvolti come dovrebbero essere nella politica ho deciso di accogliere questa sfida e finalmente portare la voce di migliaia di ragazzi che passano le proprie richieste, le proprie stanze sulla scienza e finalmente a compimento in qualche modo, dargli un'accezione più concreta che solamente la politica può dare. Quindi riuscirai a mettere a frutto le tue competenze riguardo la sostenibilità e l'ambiente all'interno del progetto? Io sono biologa, quindi di estrazione provengo dalla scienza e in quanto scienza parliamo di progresso, di efficientamento di tecnologie già esistenti, quindi sì mi aspetto di riuscire a fare tanto e appunto finalmente, come ho detto poc'altro, di dare concretezza a quelle che fino a ieri erano solamente delle voci, delle richieste. C'è un detto che dice chi fa da sé fa per tre, quindi visto che nessuno ha mai dato spazio ai giovani, adesso è arrivato qualcuno che l'ha fatto e ho deciso di accogliere questa opportunità. Allora in bocca al lupo! Grazie, grazie mille, vive l'uomo!